Rotatoria via Algeri intitolata ai maestri del lavoro. Cerimonia stamane di intitolazione ai maestri del lavoro della rotatoria di via Algeri, lavoratori dipendenti pubblici o privati, maestri del lavoro sono quei lavoratori che sono stati insegnati con la stella di merito dal Presidente della Repubblica per essersi particolarmente distinte per la loro laboriosità e buona condotta morale che abbiano apportato miglioramenti nei metodi di lavorazione, che abbiano contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza nel lavoro e che si siano prodiganti per istituire le nuove generazioni nell'attività professionale. Io ho ricevuto una mail ieri da uno di voi, dal mio caro amico Pippo, che mi ha avviato sei anni fa alla conoscenza dei maestri del lavoro, perché io lo ammetto, io sconoscevo la vostra esistenza e da quando Pippo mi ha avviato a questa conoscenza ho apprezzato e ho continuato fortemente ad apprezzare, anche molto ben sollecitato, la vostra esistenza, il vostro apporto, apporto che ho apprezzato e ho continuato ad apprezzare in questi anni, proprio perché voi rappresentate il pilastro su cui si basa non la nostra città, ma la nostra società, che è il lavoro. E quando si parla di maestri del lavoro, in un periodo in cui, anche in una zona in cui, infatti sono felicissimo, ringrazio il Dottore Contavalle e tutta la commissione toponomastica di questa scelta, in un luogo della città in cui, ahimè, spesso il lavoro è un miraggio, questo rende questa giornata di oggi, al di là dei simboli, particolarmente significativa. E ve lo dico proprio con tutto il cuore, per me è un grande onore essere qui con voi oggi, a dirvi grazie di quello che rappresentate, di quello che avete dato al nostro paese, alla nostra città, alla nostra provincia, ma soprattutto del fatto che voi continuate a mantenere dentro di voi e fuori nella vostra azione quotidiana il desiderio di continuare a dare. Questo vi fa veramente, vi rende veramente merito e trovo che voi rappresentiate un grande esempio per i nostri giovani della nostra città. Quindi ancora una volta grazie di tutto quello.